Ciao a tutti, quest'oggi voglio raccontarvi una storia. È la storia di una consulenza, di una progettazione che ho fatto da remoto, quindi di una casa che di persona non ho mai visto, e che mi è stata commissionata da Mauro. Mauro è il titolare di un'azienda di una ditta edile, che si occupa dell'istrutturazione e delle qualificazioni, e che mi ha chiesto di aiutarlo, tramite appunto una consulenza, a realizzare un impianto full electric, in una circostanza in cui nessuno voleva fare un impianto full electric. Mi dice, guarda, ho questa casa in una circostanza un po' particolare, perché è una casina in sasso ad Alta Gerola, che è una località scistica della Valtellina, a più o oltre millimetri di quota, che ha una temperatura in progetto di meno nove. E attenzione perché sono meno nove reali, nel senso che non siamo su un alto piano a millimetri, siamo in una vallata, quindi in una zona dove il sole da ottobre a marzo non si vede mai, dove si infila il vento, dove c'è anche un po' di ristagno di umidità superiore, comunque, a quello che è un normale clima montano, e quindi condizioni, secondo alcune, totalmente proibitive per il funzionamento di una pompa di calore. Ora, il mio ruolo qual era? Era non solo quello di realizzare un impianto che garantisse il funzionamento, perché quelli siamo capaci un po' tutti. Mettiamo una bella termopompa professionale ad alta temperatura, la facciamo viaggiare a 60 gradi, la mettiamo gigantesca, e garantiamo il funzionamento. Io quello che devo fare è mettere un prodotto, un sistema, che garantisse non solo un buon funzionamento, quindi un buon comfort, ma anche una buona efficienza, quindi dei consumi, che permettessero effettivamente di vedere questo tipo di impianto come un investimento, quindi come un guadagno nel tempo. Come abbiamo fatto questo? Beh, abbiamo fatto seguendo il progetto dalle radici, abbiamo ottenuto conto di quelle che erano le circostanze di questa casa. Questa casa, appunto, è una casa in sasso, una casa che è stata parzialmente ricostruita, ricostruita quindi con i materiali di risulta, quindi con le stesse sassi con cui era originale, diciamo, che è stata in alcuni punti rimbottata da della lana di roccia. Quindi è stato fatto una sorta di isolamento interno, in alcune pareti, è stato fatto un tetto nuovo, isolato, sono stati fatti messi naturalmente degli infissi nuovi. Tenendo conto di queste caratteristiche, possiamo dire che la casa era discretamente isolata, non era una casa A4, Enzeb, chissà che, aveva una discreta coibentazione. Tenendo conto di questi aspetti, siamo passati al dimensionamento, quindi al calcolo del fabbisolo termico dell'involgo. Non è mai semplice fare questi calcoli, perché sono tante variabili in casa di questo tipo. Il fatto sta che mettendo tanta esperienza, perché ci vuole esperienza a volte, quando gestisci già impianti di questo tipo, sai anche un po' meglio come regisce, appunto, l'involgo con la casa in determinate circostanze, in determinate condizioni di lavoro, e fabbisodoni termici in terreno ed esterno. Quindi, tenendo conto di quella che era, secondo i calcoli, secondo la mia esperienza, il fabbisodoni termico di quella abitazione, siamo poi passati a dimensionare i radiatori. Quindi, ambiente per ambiente, abbiamo valutato quello che erano le caratteristiche e le dispersioni, e abbiamo calcolato il radiatore, tenendo conto di un delta T20. Delta T20 vuol dire che, per avere 40 gradi in ambiente, il radiatore deve lavorare a 20 gradi in ambiente, e il radiatore deve lavorare a 40 gradi, ok? In realtà, probabilmente, il delta T calcolato era addirittura più basso, forse intorno ai 16-17. Abbiamo scelto i radiatori per una questione inerente alla velocità di messa a regime, e anche per motivi tecnici, perché non era possibile fare il radiante a pavimento. Poi siamo passati, naturalmente, alla scelta più importante, che è quella del generatore, quindi della pompa di calore. Ora qui il capitolo è importante e particolare, perché in questo caso era venuto fuori un fabbisodoternico di circa 4 kilowatt. Ma non è che 4 kilowatt, allora metto la pompa di calore da 4 kilowatt e sono a posto così, o da 5, da 6, così, a caso. Perché? Perché molte pompe di calore in commercio hanno un degrado anche molto ampio quando si tratta di abbassamento della temperatura esterna. Ad esempio, una pompa di calore a 10 kilowatt a 7 gradi di staglia, tra le 5 di mandata, quando andiamo a sotto 0, meno 2, meno 5, meno 7, possiamo avere una riduzione della potenza anche del 40%, quindi magari da 10 passiamo a 6. Ok? E questo potrebbe essere un problema. Perché? Perché magari tu per avere una casa calda con 4 kilowatt di dispersione devi mettere una pompa di calore magari da 8 kilowatt per essere sicuro di avere i 4 kilowatt quando ti servono. E invece cosa abbiamo scelto? Abbiamo scelto un prodotto che era fatto su misura per quella casa. come cerco sempre di fare io, quello di appunto cucire su misura gli imbianti alle case, in questo caso abbiamo scelto una Panasonic acquarea serie K da 5 kilowatt. Perché ho scelto questa macchina? Perché è una macchina con caratteristiche molto particolari. La sua particolarità è soprattutto avere una macchina esterna di dimensioni abbastanza generose. Generose intendo le stesse dimensioni della 9. Ok? Quindi 5, 7, 9 hanno le stesse dimensioni. Quindi l'evaporatore dovrebbe essere identico. Questo vi permette di avere che cosa? Innanzitutto di avere dei COP molto elevati. Perché considerate che quella macchina ha 7,35 quindi 7 gradi stelle 35 di mandata che è il valore di riferimento diciamo ha un COP di 5.1 che è uno dei più alti in assoluto in commercio. Ma non solo. La cosa interessante sono le prestazioni perché è una macchina che mi garantisce potenza costante fino a meno 7 gradi esterni e 55 gradi di mandata. Quindi che io lavori a 7,35 o a meno 7,55 la pompa di calore rende sempre costantemente potenza piena. E questo mi dà tanta tranquillità per gestire il lavoro molto meglio perché non mi obbliga a sovradimensionare la pompa di calore per poter avere la potenza minima garantita quando mi serve. Ed è una macchina che effettivamente risponde a quelle che sono le aspettative perché a dire le cose così siamo capaci tutti internet è pieno di professori è pieno di persone che vendono le termopompe come dei miracoli dicono che sono le migliori però poi alla fine non è veramente? Allora nel mio caso dovrei mostrarvi come lavora questa macchina con un impianto correttamente dimensionato correttamente progettato io ho fornito all'impresa non solo il dimensionamento dei radiatori non solo il tipo di pompa di calore ma uno schema completo secondo quella che era a mio avviso la soluzione ideale per questo impianto tenendo conto anche dei diametri delle tubazioni quindi delle pette di carico dei tentativi di funzionamento della pompa di calore in modo tale che tutto il sistema funzionasse in maniera organica quali sono stati i risultati di questa progettazione? allora l'impianto è entrato in funzione il martedì 7 novembre 2023 e martedì 7 novembre 2023 ad alta gelola eravamo una tarda mattinata a cavallo di 0 gradi tanto per dirvi la temperatura che viaggia in quella zona quindi dopo poche ore di funzionamento in ambiente con una mandata di 33 gradi sui radiatori avevano già 16 gradi ambiente ma non solo la pompa di calore con temperature esterne che andavano tra 0 gradi mi rendeva 5,4 kilowatt quindi addirittura una temperatura superiore una potenza superiore a quella dominale e c'erano 0 gradi esterni ma non solo la frequenza del compressore era 54 hertz considerate che la potenza massima è intorno ai 78 hertz su quelle macchie lì quindi una macchina che lavorava tipo al 70% ed era già oltre la potenza massima con 0 gradi esterni e il COP era un rispettabile 4,15 ok? 0 gradi esterni fra i datori il giorno dopo mercoledì 8 novembre 2023 in tarda mattinata mi chiama Mauro e mi dice guarda l'impianto funziona già da 24 ore però si è un po' preoccupati perché qua la temperatura è aumentata di un grado quindi da 16 è aumentata a 17 però nonostante la curva climatica va da 35 a 45 quindi dovrebbe essere più o meno intorno ai 40 gradi rimandata in questo periodo secondo le temperature esterne qui non andiamo oltre tra la terra 34 la pompa è calore va 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 però più di tra la terra 34 gradi non funziona ma ci siamo sbagliati la pompa è piccola ce la faremo siamo preoccupati guarda stai tranquillo non ti preoccupare mandami mi ha mandato due o tre foto e ho capito subito la situazione qui avevamo la pompa di calore che continuava a lavorare a 5 kilowatt 4 a 9 5 kilowatt con la mandata in 34 gradi delta T5 quindi perfettamente funzionante secondo i normali canoni e il compressore che viaggiava ancora a 53 hertz quindi io ho detto guarda stai tranquillo e sereno perché la macchina non è troppo piccola perché il compressore sta lavorando circa il 70% tu devi tenere conto di una cosa che la casa è fredda perché non è mai partito di scaldamento muri nuovi casa nuova tutto freddo gelido quindi devi andare a vincere quella che è l'inerzia negativa quindi per virgolette il freddo accumulato nei muri ok se vuoi usare questo termine non tecnicamente corretto e quindi devi dare il tempo all'involucro di scaldarsi per poi poter far sì che la pompa di calore raggiunta la temperatura ambiente vada in modulazione quindi tu stai tranquillo e sereno perché da quello che vedo la macchina sta viaggiando regolarmente tra l'altro è un COPD4 quindi anche con una buona efficienza e vedrai che con tutta tranquillità domani tu arriverai a una temperatura più che accettabile la pompa di calore raggiungerà i valori previsti quindi giovedì quindi il giorno dopo giovedì 9 mi contatta mi sembra terramattinato più pomeriggio mi dice guarda abbiamo 20 gradi in casa la temperatura di mandata è di 35 gradi la pompa di calore modulato adesso eroga 3 kilowatt quindi eroga circa il 60-70% della sua potenza il compressore viaggia a 30 hertz quindi non dico al minimo ma comunque bassino il COP comunque sempre superiore ai 4 e la pompa di calore va che una bellezza tutto viaggia sereno in casa si sta benissimo e comunque viaggiamo sempre a temperature molto basse e questo mi ha dato molta soddisfazione perché siamo riusciti a far lavorare una pompa di calore con COP elevati perché si parla di COP sempre superiore ai 4 in circostanze non dico proibitiva ma comunque complesse cioè non solo abbiamo permesso alla pompa di calore di funzionare bene quindi di garantire il comfort ma anche di avere dei consumi bassi questa è una cosa importante perché siamo tutti capaci di metterti la pompa di calore in R290-70 gradi sui radiatori e dire ce la fa magari mi metto a 10 kilowatt e vai tranquillo però a che costo con che bollette qui abbiamo fatto un impianto efficiente una pompa di calore che sui radiatori viaggia a 34-35 gradi 33 gradi sulla casa in sasso parzialmente coibentata in montagna io ho fatto questo video adesso perché sono passati diversi mesi 5 mesi ma qui nell'imbarco abbiamo fatto tutto loro sono ancora vivi e vegeti l'impianto funziona perfettamente e tutto va come deve andare ma perché? perché c'è stata la progettazione consapevole tenendo conto dell'involucro tenendo conto di come funziona la macchina tenendo conto di come deve lavorare un impianto tutto questo senza neanche vederlo ok? quindi io ringrazio innanzitutto Mauro per la fiducia ringrazio i suoi clienti per aver dato fiducia a lui di conseguenza a me ringrazio gli installatori che hanno effettuato un lavoro secondo le istruzioni e i risultati ci sono e quindi tutti quanti possiamo godere di questo impianto anche voi che li vedete perché è un'ulteriore dimostrazione che si possono avere degli ottimi risultati nel momento in cui applichiamo delle giuste metodologie sul sistema in pompa di calore è una pompa di calore che ha tra l'altro un costo neanche particolarmente elevato perché pompa di calore parasonica ha un buon rapporto qualità prezzo quindi non abbiamo bisogno di una terra pompa professionale per fare questo genere di cose basta una buona pompa di calore di qualità non basta è una pompa di calore di buona qualità che ci permette di lavorare bene vi ringrazio per l'attenzione spero che questo video vi sia piaciuto per me è stata un'esperienza molto interessante spero che questi argomenti vi siano stati di interesse in questo caso iscrivetevi al canale mettete un like c'è il gruppo facebook pompa di calore per tutti c'è la mia mail c'è il sito e quindi tante belle cosine se vogliamo restare in contatto e magari approfondire sempre di più questi argomenti grazie ancora per l'attenzione e come al solito un caro saluto e un forte abbraccio da me e dal mio pollicione ciao 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 ciao